Il cronoprogramma aveva concordato, ci aveva indicato di fare lo scavo assistito e aveva messo in conto la possibilità di trovare qualcosa sapendo benissimo che la soluzione tecnica collocando altrove con lo spostamento locale tecnico della fontana non è un problema. Da un punto di vista del cronoprogramma questo rientra nell'andamento fisiologico dei lavori. Soste di lavori non ce ne sono state e si tratta di aspettare due giorni che gli archeologi puliscono i rilievi, le pulizie, i reperti e dopo di che riprenderà il cantiere come previsto senza soste.